Oggi c'è tanto rammarico, tanto rammarico perché penso che il primo tempo è stata una partita a senso unico, dove abbiamo concesso veramente poco o niente. Il secondo tempo abbiamo anche iniziato bene, abbiamo avuto occasione per chiudere la partita 3-0, ma chiaramente poi le partite non finiscono male, sono fatti di episodi, prendi 2-1 e metti la partita in gioco. Ho avuto occasione ancora per chiudere la 3-1, su 2-2 di fare 3-2 e il calcio è questo, se non concretizzi alla fine puoi pagare come è successo oggi a noi. Sarebbe un campionato duro, non trovo differenze sinceramente, 10 anni che faccio questo campionato ogni anno ci sono sempre tante difficoltà, avversari forti, giocatori forti, niente scontato. Il nome a volte non conta, c'è sempre un campo dove devi dimostrare. Io posso dire che il Bari ha fatto un ottimo inizio, sta facendo bene, chiaramente oggi vedi il bicchiere mezzo pieno, ma secondo me non deve essere così. Dobbiamo continuare su questa strada, chiaramente possiamo fare di più, possiamo fare meglio, siamo dispiaciuti per oggi perché, parliamoci chiaro, oggi sono due punti persi. C'è da considerare che c'è anche l'avversario, un avversario di tutto rispetto, giocatori importanti, in campo non c'è solo il Bari, va dato anche merito all'avversario. Secondo me a spalle il secondo tempo, con l'episodio che avrei aperto la partita, dopo hanno iniziato a fare possesso, a giocarci nella nostra metà campo, hanno fatto anche qualche complimento a loro. Noi ci abbiamo messo del tutto, ripeto, abbiamo avuto tanto, anche sul 2-2, di fare ancora il 3-2, abbiamo avuto tante occasioni, quindi non ci siamo risparmiati. Bisogna continuare così, perché secondo me se continuiamo così siamo sulla buona strada. Ma come ho detto prima, che le partite anche sul 2-0, dove sembrano finite, ma non finiscono mai, perché basta un mezzo episodio, dove poi l'avversario prende coraggio e tieni a galla la partita. Secondo me devi sempre spingere sull'acceleratore, non abbassare mai la guardia e quando c'è da far male devi ammazzare le partite. Sicuramente Mattia è un giocatore importante per questa squadra, ma non è il fatto che è uscito Mattia e abbiamo concesso agli avversari diciamo le occasioni. Ripeto, in campo tante volte c'è anche l'avversario, a volte si tenta sempre a guardare, diciamo, se si commettono errori o no, ma secondo me la squadra ha fatto un'ottima partita e ripeto, come ho detto poco fa, va dato merito anche all'avversario, perché la Spal è un'ottima squadra e chiaramente noi potremmo fare di più, perché sinceramente siamo tutti dispiaciuti, perché 2-0 se non puoi pareggiare una partita del genere.